Il primo si è buttato Bravissimi, ecco che finalmente il comando è stato recepito I valorosi stanno nuotando, qualcuno nuota a paperetta Ma va bene, va tutto bene Ricordatevi che nuotare scalda i muscoli e non si sente il freddo Bravissimi, bravissimi, bravissimi Non fate il crumino e rimanere in terra, eh? Mi raccomando, bagnatevi Altrimenti veniamo noi con un liberante Coraggio! 188 partecipanti 188 partecipanti è un bel numero E magari arriva ancora qualcuno Siamo proprio contenti Un bel risultato